Ogni giorno una persona adulta respira in media 15.000 litri d'aria, composta per il 71% di azoto, il 21% di ossigeno e l'1% di differenti gas e polveri. In questo 1% si trovano le sostanze inquinanti dell'aria, tra cui le polveri sottili, che in base alle dimensioni possono raggiungere anche bronchi e alveoli polmonari, passando attraverso il naso e la trachea. In tal modo l'inquinamento atmosferico può causare patologie più o meno serie a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Il monitoraggio della qualità dell'aria è quindi molto importante per tutelare la salute dei cittadini, ma non solo. È fondamentale anche per verificare la presenza degli inquinanti che contribuiscono ai cambiamenti climatici. In Italia il compito di sorvegliare la qualità dell'aria è affidato al Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente, tramite una rete di monitoraggio, costituita da centraline disposte su tutto il territorio nazionale. Sulla base dei dati raccolti vengono prese decisioni per ridurre l'inquinamento, quali ad esempio il blocco del traffico. Il Laboratorio Nazionale di Riferimento della Qualità dell'aria dell'ISPRA, come richiesto dalla legge, ha il compito di garantire che i dati delle centraline regionali siano corretti, affidabili e confrontabili a livello nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.